Salve a tutti, sono Tilde D'Ambrosio. Vorrei farvi ascoltare un famoso brano di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, che presentò al Festival di Sanremo del 1992 classificandosi al secondo posto. In questa canzone lei esprime tutta la sua amarezza e confida tutte le difficoltà e le delusioni che la donna raccoglie durante la sua vita nei rapporti con le figure maschili a partire dal padre, che lei nonostante gli sforzi non è mai riuscita a conquistare. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata e mi sbaglio sempre sono la sua figlia scangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze e ostilità. E ti perdi dentro al cinema a sognare di andare via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano. Da sola gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché invece gli uomini ti uccidano e con gli amici vanno a ridere di te. Gli amici anch'io la prima volta stretta all'angolo e sconfitta. Gli uomini non cambiano. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi più meglio. La notte gli uomini non cambiano e ti danno tutto quello che non vuoi. Ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne ma non sono come noi. Amore e gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è. Sono quelli innamorati come te. Gli uomini non cambiano. Gli uomini non cambiano. Gli uomini non cambiano. Gli uomini non cambiano. Gli uomini non cambiano.